Sui media nazionali si sente spesso parlare di allarme zone rosse in Abruzzo, ma com'è la situazione effettivamente nel Terramano? Allora diciamo che sostanzialmente se noi prendiamo i dati da marzo ad oggi si sono divisi in una maniera veramente matematica. Nelle quattro province ci sono lo stesso numero di positivi. Il problema principale del Covid è che nel momento in cui l'apice del contagio si trova all'interno di un territorio salgono vortiginosamente il numero dei ricoverati e questo mette sotto stress l'organizzazione sanitaria. Noi abbiamo vissuto questa fase tra novembre e dicembre, adesso sembra l'apice passato più a sud nella zona metropolitana, non c'è stata questa riduzione rapida come è successo a marzo dopo il primo picco. C'è un plateau. Noi continuiamo a fare sia sette ricoveri al giorno, anche giovani, anche in condizioni importanti e al momento riusciamo a avere un bilancio tra il numero di dimissioni e il numero di nuovi ricoveri. Quindi sostanzialmente attualmente nel Terramano siamo in una stazionaria età. La soglia d'attenzione di occupazione delle terapie intensive è del 30%, Terramo è del 33,3%, è un dato preoccupante. Diciamo che la nostra organizzazione prevede variazioni strutturali, quindi se noi dovessimo avere maggiori necessità ci dovremmo riorganizzare. Certamente il problema delle terapie intensive è questo, che ogni cosa che si mette sul Covid si toglie a tutto ciò che non è Covid, che noi non vogliamo perdere di vista. Su indicazione della direzione sanitaria abbiamo comunque mantenuto attivi tutti gli ambulatori, abbiamo mantenuto attiva la chirurgia. La cosa complessa è dare tutta l'assistenza necessaria al territorio, ma nello stesso tempo garantire anche quelli che Covid non sono e che hanno diritto alle cure. Quanti sono al momento i ricoverati Covid? Allora, noi abbiamo un'ottantina di pazienti ricoverati Covid tra i tre ospedali, che al momento sono Terramo, Terzolotto, Giulianova e Atri. E abbiamo una quarantina di pazienti in post-acuti, cioè che hanno finito la loro fase acuta ma non possono essere ancora dimessi e vanno nelle strutture come quella di Bellocchio, che attualmente ne accoglie una quarantina. La situazione più da attenzionare resta comunque sulla costa, non nel capoluogo? Noi siamo molto preoccupati perché il focolaio pescarese o dell'area metropolitana ha un'avanzata di numeri che è importante e noi la vediamo anche nei paesi che sono vicini geograficamente e territorialmente. Per il momento abbiamo preso 23 pazienti da Pescara e 23 pazienti è uno sforzo importante perché rappresentano un reparto sostanzialmente. Noi siamo pronti naturalmente ad aiutare al massimo delle possibilità. La difficoltà nel Covid è che i numeri cambiano velocemente, quindi noi da un lato dobbiamo aiutare giusto che lo facciamo, dall'altro dobbiamo avere la capacità di accogliere le richieste che arrivano dal territorio nostro.